Tra le categorie dei dipendenti pubblici che a dicembre beneficeranno del bonus inserito dal governo nel decreto anticipi ci sono i lavoratori del comparto scuola. Si va dai 1.516 euro dei dirigenti scolastici ai 1.228 per i professori di superiori e medie con maggiore anzianità. Agli 829 dei professori di medie superiori con anzianità più bassa. Nel decreto anticipi c'è l'aumento per gli statali tra cui come ha annunciato il ministro Valditara anche un bonus per presidi e insegnanti. Beh lo accogliamo ovviamente con grande favore e dignità di vacanza contrattuale devo dire poca cosa perché a netto sono circa 400-500 euro più o meno nel mese di dicembre che ovviamente saranno quindi scalati successivamente, cioè semplicemente un anticipo. A me viene da dire bene ma mi viene anche da dire come mai in Italia non si riesce a firmare dei contratti in tempo reale perché questo è un contratto che è scaduto nel 21 quindi è un contratto del bienio 19-21 e stiamo nel 23 a discutere di un contratto vecchio di due anni. In Italia è così. Vabbè comunque ben venga, ci mancherebbe altro. Un anno sicuramente senza più ormai restrizioni anche dall'anno scorso però ormai per i ragazzi una continuità didattica che però magari si integra ancora con qualche strumento precedente come qualcosa che si può fare anche a distanza. Sì beh diciamo che la didattica a distanza è residuale assolutamente per coloro che hanno una necessità di rimanere a casa magari ammalati o qualche frattura o direttamente ospedalizzati insomma solo per queste situazioni. Viene utilizzata anche per le attività didattiche pomeridiane per i coloro che magari stanno molto lontani quindi interventi di recupero però è davvero residuale. L'anno scolastico è standard, è andato tutto bene fin dall'inizio per cui direi tutto bene. Voi avete sperimentato per alcune classi la scuola senza voti, come sta andando? Sta andando abbastanza bene nel senso che chiaramente come hai detto tu stiamo sperimentando, abbiamo la necessità di vedere, di sperimentare, di capire, i ragazzi comunque stanno apprezzando. Il governo dopo quanto è accaduto per quanto riguarda le situazioni legate all'avvivenza sulle donne ha deciso di introdurre questo spazio legato all'affettività nell'educazione a scuola. Siete favorevoli immagino? Ma noi lo facciamo già da due anni a dire il vero. Siamo assolutamente favorevoli, c'è una necessità impellente di educazione all'affettività per compensare tutte le miriade di informazioni sballate che i ragazzi hanno anche sui social, da internet. È veramente un'emergenza educativa. Tra i tanti investimenti del PNRR ci sarà qualcosa anche per la vostra scuola? Assolutamente. Noi abbiamo investito già circa 400 mila euro in strumentazione tecnologica tra attori di nuova generazione che hanno la possibilità di essere telecomandati anche da satellite, quindi anche senza il personale a bordo, macchine di ultima generazione che garantiscono anche una maggiore sostenibilità degli interventi fittosanitari e così via.